mi leggo un canale della non iscrivibile con la foto di ferdico e marotta la posizione dell'inter in merito all'inchiesta che ha azzerato i vertici della curva nord e di quella sud del Milan non può lasciare tranquilli i tifosi interisti soprattutto alcuni tesserati lo dicono gli stessi tifosi della non iscrivibile siamo partelesa ha detto marotta prima della sfida di champions con la stella rossa ma da quello che emerge dalla procura di Milano l'inter partelesa sembra esserlo fino a un certo punto nella richiesta di custodia cautelare per gli ultratratti in arresto i PM storari e ombra asseriscono senza mezzi termini che il club di fatto finanzia scusate il business illegale di ferdico e soci lo dice un canale interista ben trovati ben trovati cari amici come vedete non siamo gli unici c'è anche qualche non l'ho bottizzato e questa naturalmente ne è la prova sì perché è chiaro ed evidente che non è che siamo proprio scemi non è che siamo proprio stupidi non è che siamo proprio dei dei pupazzi che ci facciamo manipolare riusciamo a capire certe cose certe dinamiche per cui che la non iscrivibile è davvero messa male ma non soltanto perché non è iscrivibile ma perché si trova in una situazione davvero imbarazzante proprio imbarazzante non so se ho reso l'idea in proposito non so se ho reso l'idea la stanno proprio tenendo fuori da ogni situazione volutamente ma poi nei fatti c'è dentro c'è dentro chiaramente e i tesserati ma anche i dirigenti che hanno assunto la sorella di ferdico è chiaramente una se non vogliamo chiamare una complicità non chiamiamola complicità ma per essere proprio buoni un fiancheggiamento totale agli intrallazzi dell'andrangheta ma ormai lo sanno praticamente tutti non c'è bisogno che lo dico io ormai è chiaro ed evidente mentre oggi pomeriggio alle 2 quindi lo sapremo più tardi si sta disputando quando vi parlo io si sta disputando ancora un consiglio federale molto animato che deciderà la data delle elezioni che è quella di febbraio ed è una data molto particolare perché ci sono c'è un'opposizione forte che spinge guidata da Lotito e De Laurentiis come ben sapete con il presidente federale Gravina che deve sciogliere le sue le sue diciamo perplessità perché anche lui è perplesso sulla ricandidatura negli ultimi giorni Gravina si è intrattenuto in collochi con molte società ma anche con le componenti federali ricordiamo che Gravina in questo momento è molto forte perché ha con sé i dilettanti che sono la maggior parte dei delegati a votare ha con sé la lega di serie C la lega di serie B non ha la lega di serie A per la quale come sapete c'è probabilmente in corso in atto un ribaltamento vogliono mettere il figlio di Carraro e poi dirottarlo al Coni una manovra molto particolare molto strana molto perversa secondo il mio modesto parere l'ampio sostegno del quale ha goduto il 4 novembre scorso il presidente federale è come vi abbiamo vi ho detto proprio poc'anzi un indizio concretissimo e quindi rischia di stravincere Gravina alla data di febbraio dovrebbe essere febbraio l'elezione ma come vi dicevo negli ultimi giorni sta intrattenendo una serie di rapporti con le varie leghe soprattutto con quella di serie B con gli ultimi avversari che si annidano fra le file del campionato soprattutto il campionato di serie A soprattutto la Lazio il Napoli il Torino il Verona queste squadre oltre ad aver votato contro la sua proposta di bonifica statutaria passata poi al Coni proprio a Coni qualche ora fa hanno spinto per portare avanti un'azione legale contro la federazione cioè praticamente Lazio Napoli Torino e Verona stanno pensando di far causa di denunciare la federazione un'ipotesi che è stata comunque svendata nell'ultima assemblea di Lega con la presa di posizioni di 11 società Atalanta Bologna Como Fiorentina Inter Juventus Monza Parma Udinese e Venezia non c'è il Milan attenzione che hanno inviato delle lettere al presidente Lorenzo Casini soltanto un attimo e quindi praticamente queste squadre non sono per la denuncia se si votasse oggi novembre le 11 sorelle potrebbero portare i loro voti verso Gravina quindi anche la Juventus oltre che sostenere in Lega un candidato diverso dall'attuale presidente con Juve Inter pronte a farsi il promotice del cambiamento al vertice della Serie A ma non della FGC e poi pensate si punta al ribaltone alla Lega calcio quindi per far fuori i casini il nome è quello del fio di Carraro e chi è che porta avanti la battaglia Juventus e Inter pensate un po' pensate un po' dove siamo finiti mi sono fermato perché vi invito alla riflessione vi invito a riflettere cioè noi tifosi della Juventus che amiamo questa squadra siamo oggi costretti e dico costretti a tifare Lazio e Napoli che guidano invece l'assalto a Gravina mi sembra questo particolarmente rilevante anche per quelli che sono gli assetti che in maniera imbarazzante si sono venuti a creare a determinare ma Gravina è anche l'uomo sottoposto alle inchieste lo ricordiamo perché perché Gravina è in questo momento tartassato davvero da da quelle che sono le sue inchieste le inchieste il destino appunto dell'attuale presidente federale è legato o tortocollo alla sua posizione davanti alla giustizia ordinaria che lo vede al centro dell'inchiesta sulla compravendita di libri di libri antichi legata ad un appalto per dei diritti tv alla lega pro che nasce dalle carte del caso dossieraggio di cui Gravina e molti altri è vittima e Gravina ad oggi alle due non sappiamo magari lo sapremo più tardi ancora non ha sciolto le riserve io credo che si candida ve lo dico chiaramente io credo che si candida che non si presenta di missionario non lo penso proprio e poi succede succede non lo so lui però le riserve sulla sua ricandidatura ancora ad oggi a questo momento non le ha sciolte nonostante vi ripeto quello che ho detto in precedente ha l'ampio sostegno ormai dei delegati che sono tutti dalla parte sua a parte una fetta di serie A che conta poco e niente e vi ricordo che proprio per questo il decreto Moulet fu affossato in parte perché il decreto Moulet voleva che la riforma non passasse e che la serie A che poi è l'asse trainante del calcio no contasse più dei direttanti e invece i direttanti contano di più della serie A fra l'altro spaccata chiaramente vedremo se Gravina scioglierà o meno le riserve cosa farà io penso che si candiderà lui non molla la presa ma non la mollerà nemmeno questa volta chi gli sta addosso è un consiglio federale molto particolare molto strano e vedremo vedremo cosa succederà dopo che è passata la riforma Gravina che è una riforma a mio avviso che distrugge il calcio lo distrugge totalmente il calcio le modifiche della riforma Gravina scaturite in quattro direzioni così sintetizzabili il riconoscimento ad ogni lega della piena autonomia della organizzazione delle proprie competizioni cioè ogni campionato ogni lega si organizza il proprio campionato quindi praticamente la lega di serie A fa di testa sua la B di testa sua oggi invece c'è diciamo il calcio è un solo corpo un solo complesso in secondo luogo il riconoscimento in capo alla lega di serie A della cosiddetta intesa forte relativamente a tutte le norme che la riguardano terzo rimodulazione della rappresentanza delle leghe professionistiche sia in assemblea che in consiglio federale e poi la rivisitazione del ruolo degli arbitri dell'AIA settore arbitrale vi ricordo che vi ricordo che sia gli arbitri sia gli allenatori l'AIA associazione di allenatore sono a fuori di gravina alle prossime elezioni i pesi elettorali quali sarebbero a questo punto per la serie A i consiglieri federali passano da 3 a 4 e il peso elettorale sale del 12% dal 12% al 18% per la serie B i consiglieri federali salgono da 1 a 2 e il peso elettorale del 5 al 6% la lega pro avrà un solo consigliere federale e non più 2 e il peso elettorale scende dal 15% al 12% invariata questa è la situazione invariata la presenza della Lega Nazionale di Direttanti che conserva 6 consiglieri e il 34% di peso elettorale così come la posizione dell'AIA associazione italiana degli allenatori con 2 consiglieri e il 10% di peso elettorale e quella dell'AIC associazione italiana con arbitri con 4 consiglieri e il 20% no l'AIC l'associazione italiana calciatori con 4 consiglieri il 20% di peso elettorale esce fuori dal consenso federale dell'AIA gli arbitri perdono in cambio di una maggiore autonomia organizzativa sia il consigliere federale di rappresentanza che il 2% dei voti e allora pensate la serie A ha il 18% questa è la riforma capestro di Gravina che ancora una volta non è una riforma è un ritocco alla riforma mentre ha quasi il doppio i dilettanti di peso il 18% la serie A e il 34% i dilettanti 4 consiglieri la serie A 6 consiglieri dilettanti ma qui è andato a finire il formaggio sotto i maccaroni sopra si dice a Napoli ma davvero si può far gestire il calcio ai dilettanti fra l'altro poi trascurati fra l'altro messi molto male dai non scherziamo non scherziamo e aspettiamo dunque aspettiamo che la giustizia faccia il soccorso che il governo possa commissariare la FGC annullare queste elezioni rifare lo statuto che è stato approvato anche dal CONI quello del 4 novembre appunto che porta queste cose che vi ho appena descritto che vi ho appena detto c'è il governo del calcio che viene gestito in maniera quasi fascista non scherziamo mi fermo qui mi fermo qui vi invito alla riflessione vi invito naturalmente a commentare questo stato di cose e vi invito ad iscrivervi al mio canale Sergio Vessicchio ad attivare la campanella delle notifiche a mettere un like se lo ritenete opportuno mi raccomando mi raccomando iscrivetevi Sergio Vessicchio Sergio Vessicchio quello che è pazzo che vi dice le cose come stanno alla prossima grazie